Come va, come va? Un saluto ben ritrovati, un abbraccio a tutti, una buona giornata anche da parte mia, chi ha il Milan nel cuore, dopo il video di questa mattina di Enrico Silvestrin, esordio per lui su un anello, devo dire molto visto, molto apprezzato, alla fine di questo video vi rimando a quello se non avete ancora visto. Un grazie Enrico, mi raccomando commentate numerosi anche in questo video, lasciate un bel like e iscrivetevi qui in questa zona se siete dei cuori rossoneri, se avete nel cuore almeno uno tra Rivera, Van Basten, Baresi, Maldini, Sheva Kaka, Leao Giroud, Inzaghi, test superato, anzi almeno due di questi, iscrivetevi è gratuito, benvenuti ai nuovi e un grazie ai vecchi. Sì, arriviamo presto a 100.000 iscritti, vi consiglio anche di scaricare gratuitamente l'app di OneFootball dal link che vi metto qui sotto nella descrizione, è gratuito, è la numero 1, notizie esclusive live, calcio mercato, gli highlights da vedere ovunque voi siate, personalizzabile con solo notizie di Milan, tra l'altro è sponsor del Milan e quindi un motivo in più per scaricarla gratuitamente, l'app numero 1, vi metto qui sotto il link, se volete potete andare e tornare, io vi aspetto. Allora ragazzi, calma, stiamo tra il calmo e il molto calmo, però, 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 però parliamone, parliamone, dobbiamo parlarne e ne parliamo. Un riaggiornamento, perché nel video di ieri sera poi, non tutti l'avete visto, volevo esprimere il mio punto di vista sulla nuova classifica, siamo quarti, io preferirei arrivare in Champions nei primi quattro posti sul campo. Come è possibile? Scavalcando l'Inter, se noi vinciamo con la Juventus e l'Inter perde con l'Atalanta, noi scavalchiamo l'Inter e quindi sarà l'Inter eventualmente arrivare nei primi quattro posti, non sul campo. Oppure, come è possibile, Milan che vince le prossime due, Juve che perde la prossima contro di noi, pareggia l'ultima e non la scavalchiamo. Mi piacerebbe sul campo, dopodiché non ho detto bisogna vergognarsi perché andiamo in Champions così, no. Si deve vergognare chi ha fatto certe cose, non il Milan, chi ha fatto certe cose è giusto che paghi, chi ha fatto certe cose e si è permesso magari ai giocatori come Chiesa, Valavic, che non si poteva permettere, evidentemente ha tratto forse dei benefici, forse, dal campo. Quindi non voglio essere interpretato male o malinteso, io dico che preferirei sul campo, dopodiché non mi vergogno mica, di cosa stiamo parlando? Si deve vergognare, ripeto, chi ha fatto certe cose e non i tifosi di questa squadra, sia chiaro, che stanno vivendo estate molto molto travagliata. Quindi la Juve è pressoché fuori, la Roma è a distanza di sicurezza 4 punti, l'Atalanta è quella più vicina 3, quindi vediamo il prossimo turno, può essere molto significativo. Noi bastano 3 punti, ma magari vediamo il prossimo turno che cosa succede, ecco. Quindi è una classifica diversa, siamo nei primi 4 posti, poi la Juventus verrà comunque esclusa probabilmente dalle coppe indipendentemente dal piazzamento, quindi può non essere considerata più una rivale, dall'UEFA intendo, e vediamo perché il prossimo anno la Juventus potrebbe partire con il meno davanti. Capite che questo rivoluziona sicuramente il progetto ospertivo della Juventus, a livello di possibilità di spesa, perché tu non incassi una cinquantina di milioni di euro dalla Champions League. A livello di ambizioni, perché se riparti con una nuova dirigenza, con giocatori forti che magari vanno via, sei costretto a partire un po' dall'anno zero. E ripeto, certi big vanno via, di Maria non lo resta sicuramente, anche se poi conti fatti non è che abbia fatto una grande stagione. Vediamo cosa succede di Vlaovic, che mi piacerebbe vedere con le mani del Milan, ma credo che sia molto improbabile, barra impossibile, questa estate. Per questo insomma vediamo appunto che cosa accadrà lì. Ma torniamo al Milan. Per la nostra estate, per la prossima stagione, è fondamentale quest'anno arrivare nei primi quattro posti. Arrivare nei primi quattro posti sul campo può cambiare un po' il giudizio. Non sul campo, secondo me non cambia il giudizio, quindi sul campo noi saremmo arrivati nel caso quinti, no? Ma spero di no. Però è importante arrivare in Cepius non per cambiare il giudizio su questa stagione, ma per avere le risorse per la prossima stagione. Per avere possibilità maggiori di spesa. Dobbiamo fare diverse cose. E attenzione, perché con possibili incastri, con possibili operazioni in certi riparti di prestito, e in altri con parametri zero si può magari sognare un grande colpo a livelli di, che ne so, Rui Costa dei tempi, di Coibra dei tempi nostri, nel senso che sono cambiati anche i tempi. Un colpo da abbonamenti, già che ne stanno arrivando tantissimi, da fila lì fuori da casa Milan, per vedere il giocatore con la mano del Milan. La bomba clamorosa oggi arriva dalla Gazzetta dello Sport, da un collega che io conosco, molto bravo, molto serio, molto affidabile, che non spara il nome tanto per, che è Luca Bianchin, che fa una traccia mercato, un riassunto mercato, con il nome di Loftsukic, come diciamo, ne parliamo da ottobre qui, è una pista assolutamente valida, credibile e anche calda. Il Milan si è mosso ufficialmente con il suo entourage, ricevendo il benestare da parte del giocatore e anche con il Chelsea. C'è la pista camada, che non è assolutamente tramontata, il giocatore l'altro ieri a domanda precisa ha lasciato l'intervista, segno che insomma può essere un po' un momento delicato in cui bisogna pesare anche le parole, o meglio trincerarsi dietro a uno comment che può essere significativo. Un silenzio assordante, come si dice in questi casi. Dall'altra parte, oggi la Gazzetta scrive a costa in nome di Sergei Milinkovic Savic al Milan. Vi devo dire tante cose su questa possibile traccia di lavoro. Sergei Milinkovic Savic intanto viene descritto come il grande sogno di Pioli. Qualche anno fa vi dicevamo che era Zielinski. Zielinski oggi è un po' più in là con l'età, insomma sembra anche un po' in parabola discendente. Ora il nuovo grande obiettivo, la grande preferenza di Pioli sarebbe Sergei Milinkovic Savic. Che cosa succede? Prima di dire ma che dice eccetera eccetera. Ripeto, è una notizia della Gazzetta, però c'è anche dell'altro che noi abbiamo raccolto. Milinkovic Savic intanto diciamo che ha 28 anni e rispetto alla denuncia di Maldini, siamo un po' inesperti, porterebbe a 28 anni, non a 32, un bagaglio di esperienza importante, di affidabilità, e sarebbe secondo me nei parametri, perché non bisogna prendere più soltanto i ventenni di belle speranze, ci siamo scottati con De Chetelare. È nato in Spagna ma è serbo, alto 1,91, quindi centimetri, chilogrammi, palle alte. Gioca nella Lazio, in Italia non si deve ambientare, anche perché ha 28 anni. Scadenza 2024, questo è il primo fattore importante. Scadenza 2024 significa che è un giocatore che o va via quest'estate o lo titolo perde a parametro zero. Escludo categoricamente che lo titolo possa perdere a parametro zero, quindi in assenza di rinnovo e di trattative di rinnovo, Sergei Milinkovic avvicina estate e lascerà la Lazio. È un giocatore che era uno dei primi obiettivi della Juventus, dico era, prima di tutta questa situazione. Oggi per la Juventus è un giocatore che viene depennato, viene escluso per i motivi di qui sopra, perché la Juventus non ha più possibilità di, grandi possibilità di manovra, di spese, e si deve un po' ridimensionare ripartendo dai giovani. È un giocatore che all'estero ha discreta considerazione. Volk non ha fatto tante volte la Champions, Volk con la sua nazionale hanno fatto grandi cose. Non ha così tanti estimatori, non c'è la fila per Sergei Milinkovic, che altrimenti si sarebbe spazzato magari anche un anno fa. Questo può aprire uno spiraglio, ripeto, uno spiraglio, una speranza. Mi ricorda, spero che possa ricordare molto la vicenda Tonali, vi ricordate a un certo punto Inter, Inter, Inter è fatta, poi vi raccontiamo attenzione perché qualcuno mi dice comunque il Milan, giù critiche se per non dire altro, alla fine Tonali non ha mercato all'estero, in Italia l'Inter è bloccata, a quel punto lo può prendere soltanto il Milan e il Milan lo prende. Ecco, io ho la sensazione che in Italia lo possa prendere soltanto il Milan. bisogna capire se all'estero si crea quel fermento, quell'attenzione che al momento non c'è. Vi devo dire però altre cose. Per un giocatore che quest'anno ha fatto 7 gole e 8 assist, notevole, lo scorso anno ha fatto, sto parlando solo di serie A, 11 gole e 11 assist, cosa che fanno i nostri numeri 9, l'anno prima 8 gole e 10 assist, l'anno prima 7 gole e 6 assist, è un giocatore, lo conoscete, non ha bisogno di presentazioni, è forte, ha personalità, è forte fisicamente, si fa sentire in zona goal, aiuta anche la fase di non possesso, da un punto di vista fisico secondo me è a tratti irresistibile, e sarebbe un giocatore fantastico per il Milan, con la consapevolezza di Pioli che sulle altre quarti bisogna mettere un giocatore più fisico e più centrocampista rispetto al giocatore più offensivo alla De Ketelare, ecco, secondo me il discorso De Ketelare, Milinkovic è legato, ve lo dicevo anche tempo fa, siccome se c'è una possibilità che il Milan possa arrivare a Milinkovic, questa passa da una partenza di De Ketelare, perché altrimenti lì siamo ingolfati, ecco, De Ketelare che potrebbe avere ancora mercato in Inghilterra, è giovane e, piaccio pure no, credeteci pure no, gode di più considerazioni rispetto a Milinkovic, Savic in Europa, nonostante questa stagione molto negativa, barra tremenda. Abbiamo altri elementi, ripeto, piedi per terra, ma abbiamo altri elementi, un mesetto fa la stampa inglese aveva parlato, aveva scritto di contatti, di incontro tra Maldini Massara e Kezman, grande punta, ve lo ricorderete, di 15-20 anni fa, che è l'agente di Savic, ha parlato di incontro, non avevamo dato tanto peso a quella notizia, dopodiché, dieci giorni fa, il messaggero, quindi Roma, quindi Lazio, quindi quotidiano romano, molto vicino all'ambiente laziale, scriveva, attenzione, ha scritto più volte, il Milan si inserisce nella corsa Milinkovic, Savic, ora esce anche la gazzetta dello sport, ecco, io sogno ad occhi aperti, pur consapevole, che non è facile, il prezzo del cartellino non è eccessivo, la gazzetta dice 25-30 milioni, Lazio probabilmente parte da 40, ma non ha, in assenza di altri club, la possibilità di fare la voce grossa, è chiaro che trattare collotito è molto complicato, ci ricordiamo un Oddo, un Biglia, stra pagati, vicinissima alla scadenza, dall'altra parte, secondo me, l'unico vero ostacolo, può essere rappresentato, dall'ingaggio, lui prende 3,2 milioni di euro, non ha il decreto crescita, perché è qui da diversi anni, quindi non è un problema 3,2, il problema è che vuole spostarsi a cifre importanti, intorno ai 5 milioni di euro, che in un Milan normale, non dovrebbe essere un problema, ma non possiamo ignorare che 5 sono 10 all'ordo, sono un ingaggio che il Milan darà adesso a Leao, non ha dato nessun altro, a parte a Ibra qualche anno fa, quindi dovrebbe essere un sacrificio da parte della proprietà, che intanto ha alzato il tetto salariale con l'ingaggio di Leao, quindi questo è un segnale, però ecco, bisogna analizzare il trend, e bisogna capire che quello è un ingaggio un po' pesante, a meno che, Sergei Milinkovic-Savic non si possa accontentare, di un ingaggio, magari da 4,5, 4, 4,5 a salire con dei bonus, un ingaggio più alla Teo Hernandez-Ben Nasser, più umano, ripeto, piedi per terra, per oggi la bomba l'ha lanciata, quella bella, la gazzetta dello sport, e quindi una pista tutto sommato, da seguire, ecco, Loftus-Cic e Milinkovic-Savic, entrambi mi sembra sinceramente troppo, l'obiezione che qualcuno mi ha mosso anche nei commenti precedenti, ma perché non prendiamo Milinkovic-Savic invece di Loftus-Cic, obiezione che ci sta, tra l'altro, alla Lazio, con Sarri che l'aveva avuto, aveva avuto con lui la stagione migliore, Loftus-Cic interessa, chissà che non si possa fare un incastro, non lo so, ecco, tra i due mi prenderei Milinkovic-Savic, però sarei molto contento anche con Loftus-Cic. Vediamo cosa succede, secondo me molto dipende anche dal futuro di De Ketelare, se resta il Milan, a quel punto non devi riscattare Brian Diaz, e devi fare delle scelte diverse. è una pista, seguirla non costa nulla, per me sarebbe un acquisto strepitoso, straordinario, compatibile con la spesa mercato come con il budget mercato, semplicemente facendo dei prestiti, Zagnolo, prestito, Galatasaray inizia a avere dei problemi con lui, Scamacca, prestito, su questo sappiamo che il WestM è molto disponibile, e qualche altra operazione di complemento, cedendo magari Orighi, Rebic, facendo operazioni anche di player trading. Ditemi che cosa ne pensate, però ripeto, stampa inglese, stampa romana, Gazzetta. Vediamo, vediamo cosa succede, ripeto io, grande stima del collega che l'ha scritto, quindi la spia l'ho accesa. Ditemi che cosa ne pensate, vi piacerebbe? Credo di sì, magari non a tutti, perché ho visto nella chat, cui appartengo con tanti fratelli rossoneri, qualcuno che dice per me è un po' sopravvalutato, io lo prenderei a occhi chiusi, contribuirei anche con una piccola spesa. Ditemi che cosa ne pensate, iscrivetevi qui, mi raccomando siete dei cuori rossoneri, allora siete al posto giusto, al momento giusto, chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano, lasciate un bel like, scaricate l'app di OneFootball, e ora vi rimando al video con il mitico Erico Silvestrin, che ringrazio. Ciao!